Ciao a tutti, da Roberto, buon venerdì, oggi ancora presentazione prodotto, nuovo prodotto uscito a gennaio, andiamo a vedere che prodotto andiamo a presentare oggi. Eccoci qua ragazzi, presentazione oggi della lampada H15 nuova, perché nuova? Perché il led precedentemente che era led attualmente su il catalogo Riatek, era l'H15 con led Cobb. Il led Cobb sull'H15, eccolo qua l'H15, vedete qua il prodotto originale, andiamo a vedere l'H15, eccolo qua, questo è l'H15 originale, allogeno, eccolo qui. Il problema del Cobb è che purtroppo avendo un unico led, quando lavoravi col diurno acceso e facevi l'abbagliante, purtroppo avendo un unico led, vedevi soltanto un micro impulso, ma non faceva la doppia luce. Cosa che grazie a Epistar, Epistar produttore di chip molto molto famoso e tra forse le top 5 come produzione di led a livello mondiale, ha creato questo bellissimo prodotto, ovviamente in base a H15, con dissipazione passiva a nastri, come vedete, eccolo qua. Vedete l'H15 che ha i tre pin, il negativo e i due positivi. Vedete la particolarità di questo prodotto risolto grazie ad Epistar? È il doppio led, abbagliante diurno. In questo modo noi possiamo tranquillamente far accendere tutti e due i prodotti contemporaneamente, cosa che prima non era possibile, perché un unico led faceva tutto e veniva direttamente dimmerato rispetto ad avere un doppio led, quindi poca intensità su diurno, tanta intensità su abbagliante. E ovviamente tutti e due non era possibile farlo. Il problema è risolto grazie a Epistar. Come vedete, doppia centralina, uno fa il diurno, uno fa l'abbagliante. È come se si ha praticamente una doppia lampadina, che fa due cose, ma ovviamente tutto incorporato in unica. Molto interessante. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche tecniche per quanto riguarda questo bellissimo led Epistar base H15, molto molto importante per poter risolvere questa piccola problematica. Allora, andiamo a vedere un po' di misure. 480 mm, per quanto riguarda dalla testa fino ad arrivare alla base, molto piccolo. Guardiamo anche il confronto contro l'originale. 47 l'originale, 48 il led. Assolutamente ci siamo, ragazzi. Dalla parte del supporto dell'aggancio, cioè l'OR, quello rosso, fino ad arrivare all'inizio della dissipazione passiva, 26,8 mm. Andiamo a confronto della lampadina alogena, 25,5. Anche lì, ragazzi, ci siamo, le dimensioni ci siamo, perché è veramente molto compatto. Ovviamente un unico codice è il mod 76 15 12 24 volts. Chi vuole un singolo, perché magari ha fatto un incidente o è successo un imprevisto, esiste anche il singolo 76 15, uno ovviamente singolo. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche. Ovviamente H15 per tutti i nostri amici di Audi A5 S5 del 2010 al 2012, Audi A6 S6 dal 2012 in poi, Audi Q7 dal 2010 in poi, Mercedes-Benz GLK 2013 in poi, classe A dal 2015 in poi, Land Rover Discovery Sport dal 2016 in poi, BMW Serie 2 dal 2014 in poi, Volkswagen Tigua dal 2012 in poi, e aggiungerei ovviamente anche Golf e Ford Kuga. La Golf ovviamente è quella che ha la lampadina alogena, perché adesso la Golf nuova ha già il DRL di serie. Ok, andiamo a vedere nel cuore di questo bellissimo Epistar, di questo bellissimo LED Epistar. Potenza reale del prodotto 25 Watt in abbagliante, 10 Watt in diurno, molto molto interessante. Voltaggio per quanto riguarda la funzionamento di questo prodotto, dai 9 ai 30 volts, quindi anche tutto il discorso camion 24 volts. 2800 lumen, potenza massima ovviamente in 25 Watt. Chiaramente H15 è il prodotto, il nome H15. IP65, grado termico di, diciamo, di tenuta stagno, chiamiamola. LED Epistar, come ho detto, uno tra i migliori LED al mondo. 6500K, il colore, diciamo, del prodotto, che è standardizzato come tutti i LED, quindi è tendente al bianco freddo. Ovviamente anche loro utilizzano come maggior parte dei nostri prodotti l'alluminum, che sarebbe un tipo di alluminio molto di alta qualità e molto dissipante. 50.000 ore di utilizzo, ricordiamo sempre, sono dati da laboratorio. E il range del prodotto è sempre meno 40 più 85, ovviamente come sempre in Italia possiamo tranquillamente circolare. Come tutti i prodotti sono marchiati CE, Comunità Europea, per poter essere, ovviamente, venduti in tutta Europa. Bene, ora adesso lo andiamo a alimentare, andiamo a provare questa diversificazione, tra l'altro LED, quindi la doppia intensità, e andiamo assolutamente a scoprirlo. Negativo, per quanto riguarda, ovviamente, in comune, e il positivo, vedete qua, andiamo a vedere un po' bene nel dettaglio, positivo diurno, vediamo se riesco a farvi vedere bene, ragazzi. Eccolo qua, non so se si riesce a vedere. Ok. Andiamo un attimino a vedere adesso invece l'abbagliante, il diurno, come vedete, è questo qua sopra, ragazzi. E andiamo a vedere l'abbagliante. Eccolo qua. Vedete? Il LED piccolo, il LED piccolo fa l'abbagliante, il LED, quello grosso, fa il diurno. Uno, due. Uno, due. Andiamo a vedere se riusciamo a andare tutti e due. Eccoli qua. Tutti e due accesi, vedete? Diurno e abbagliante acceso. Cosa che non era possibile con i vecchi LED. Molto, molto buono, come avevo detto, era la qualità di dissipazione, e assolutamente anche la lavorazione, come vedete, del metallo, molto pregiato. Assolutamente tenere in mano questo prodotto è proprio ti dà questa sensazione di grande professionalità e di grande lavorazione per questo bellissimo H15. Molto interessante. Molto interessante. Particolarità perché attualmente nel mercato base H15 non esiste niente che non sia questo prodotto Epistar, che faccia questa soluzione con il doppio LED. Attualmente non esiste niente. Mi raccomando, utilizzate sempre prodotti originali e ovviamente prodotti di alta gamma. Mi raccomando. Il marchio Riatech è un marchio assolutamente ormai risaputo, nell'alta qualità, nella conversione delle lampadine a LED. Riatech è un marchio ovviamente di originalità. Mi raccomando, ragazzi. Bene, come sempre, io vi invito a San Zeno e L'Ambro, in via primo maggio al Civico 16, la zona industriale. Il nostro sito internet, elettro, segnomeno, di scan.com, dove trovate il nostro shop online, base H15, mod 7615. Mi raccomando, lo andate a trovare tranquillamente cercando, anche nei prodotti specifici, per esempio per Golf. la nostra email, info, chioccio, elettro, segnomeno, di scan.com, il nostro telefono fisso, 0298 26 0207. Ovviamente i nostri social, YouTube, dove potete seguire un sacco di bellissimi video, soprattutto i tutorial, per dare maggiori informazioni a voi e capire effettivamente meglio uno, peggio l'altro. Instagram, mi raccomando, seguite sempre le nostre stories. Facebook, seguite anche su Facebook, se magari utilizzate più Facebook e altri social network, e anche Twitter, se volete anche seguirci. Ciao, ciao ragazzi!